17 febbraio 1991, Martorella intercetta il retropassaggio avventato di Di Sarno eppure con qualche difficoltà nel controllo porta in vantaggio la squadra di Giovanni Galeone, subentrato nel corso della stagione a Carlo Mazzone. Qui ci prova ancora Martorella che sfiora il gol del raddoppio che arriverà poco più tardi, il gran cross, l'invito di Eddie Bivi e la volée vincente di Edmar, il brasiliano, quasi un oggetto misterioso all'epoca che si concede anche un passo di samba. Poi il palo colpito da Bivi, il terzo gol, Bivi che è riuscito a concludere verso la porta di Battara, la respinta, palla messa in rete da Caffarelli. Terzo gol dunque di Caffarelli, qui siamo nel 94-95, 23 aprile 1995, la sarnitana di Deglio Rossi subito in avanti, aggressiva con Pisano, grande parata di Morgan De Sanctis. Poi ci prova lo stesso Pisano con la palla che termina a lato, dunque un avvio dirompente di quella sarnitana che aveva vinto il campionato di Cilano precedente con Deglio Rossi in panchina. Roberto Breda su calcio franco, in diretto, grande intervento ancora di Morgan De Sanctis, Roberto Breda attuale allenatore del Livorno ex Perugia. Qui parte il contropiede Federico Giampaolo, c'è la punizione, batte subito Gelsi per Baldi, si addormentano i giocatori della sarnitana. Baldi evita l'intervento in uscita di Chimenti e sblocca il punteggio. 1-0 nella ripresa però il pareggio della sarnitana, rimpallo favorevole a Grimaudo, si oppone, fa quel che può Morgan De Sanctis e realizza a porta vuota il gol del pareggio. Giovanni Pisano, 1-1, qui siamo al 13 gennaio 1996, il vantaggio del Pescara Serie B, allenatore Franco Oddo finirà 2-0. Gran destro di Michele Gelsi e poi l'assolo, sontuoso di Federico Giampaolo che si mette in proprio, avversari saltati come Birilli. La conclusione, la rispetta di Chimenti, il tap-in di Dario Di Giannatale, deviazione sulla linea di porta. Federico Giampaolo realizza il 2-0. Qui siamo nel 2003-2004, il primo gol di testa di Fabio Alteri, allenatore Ivo Iaconi. Il raddoppio sempre di Alteri su un preciso invito di Iannuzzi, la tifoseria biancazzura che esulta. L'allenatore della sarnitana era Stefano Pioli. Prima di chiudere vi facciamo vedere gli ultimi due precedenti. Entrambi finiti con lo stesso risultato 2-2. Donnarum si procura il calcio di rigore che viene trasformato da massimo coda. Ci sono anche gli effetti di fondo, li possiamo ascoltare. Poi la gran palla di Gianluca Caprari per la Padula, il pareggio del Pescara nel primo tempo. Al termine di quella stagione 30 gol, poi nel secondo tempo ancora la Padula che recupera il pallone di forza. L'assist per Daniele Verde, il primo sigillo in maglia biancazzura per l'attaccante Scuola Roma, classe 1996. Poi il fallo di mano di Zuparic, il secondo rigore a disposizione di coda. E qui è bravissimo Fiorillo a neutralizzare il penalty dagli 11 metri dell'attaccante Granata. Ma proprio all'ultimo respiro arriverà il 2-2 di Alfredo Donnarumma. Tra l'altro il Pescara ha 10 uomini nel secondo tempo per l'espulsione. Doppio giallo di Gianluca. Caprari, 2-2 anche lo scorso anno, settembre 2017, vantaggio del Pescara con Cristian Capone su assist preciso di Francesco Zampano. Il Pescara naturalmente era Zdenek Zeman, era la quarta giornata dello scorso campionato. Rivediamo la marcatura di Cristian Capone, perfettamente assistito dal suo compagno di squadra. Poi Brugman ruba palla, lo scambio con Benalì. Tutto facile per Pettinari, il settimo gol di Pettinari nella stagione scorsa. Dopo quattro partite, 2-0, sembra fatta ma così non è. Sprocati, gran destro a giro, nulla da fare per Pigliacelli. 2-1, la serenità d'accorcia le distanze. Poi perfeziona la rimonta al novantesimo. Calcio ripunizione di Vitale, colpo di testa in posizione dubbia di Minala.